Ciao, spero di trovarti in salute. In questo ultimo anno di restrizioni e solitudine ho avuto un amico. Volevo condividerlo con te ed è questo. Se ti va, lo puoi trovare nelle librerie italiane, sui siti e sui cataloghi delle più grandi case editrici, oppure direttamente da me. Fammi sapere come l'hai trovato e cosa ne pensi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.